La carica motivazionale alla fine fa la differenza fra Torrese e Giulia Nova, festa giallorossa a discapito degli uomini di Cerasi che consolidano il secondo posto e volono direttamente in finale. Per la Torrese onore e primo spareggio all'Aquila. Il film della partita con le immagini di Mario Giacchetta al quarto calcio di punizione Tini pennella per la testa di Santi Rocco che insacca nella parte sguarnita ed opposta di Di Giovanni Antonio e Giulia Nova shock tutt'altro pochi minuti al decimo Persiani in palleggio in area per Gazzì e calcio di rigore che è lo stesso Persiani sciupa sul legno traverso ma l'azione prosegue la rabbia la foga la palla nel sacco di Paolo. E' quindi l'uno a uno. Il Giulia Nova non si dà tregua e lancio lungo per Di Paolo che è un buon controllo ma non una buona lucidità per beffare Camaioni. Passano i minuti fa tutto da solo Cerasi ne salta uno ne salta due e poi a sinistra a fil Di Paolo per il ribaltamento. Quarantaduesimo angolo di Giglio testa di Sisei Lusione gol e sulla disattenta rimessa dei torresi Di Paolo può approfittarne ma viene contratto al quarantaseesimo orgoglio torrese nel finale di tempo con Graumberi sotto misura fermato da una deviazione. La ripresa si apre con una occasione per parte Restaneo prova a cogliere di sorpresa di Giovanna Antonio che si rifugia in angolo e poi sempre dall'angolo è testa di Persiani che fa attraversare la sfera per tutto lo specchio e finisce fuori. Il Giuliano va a controlla, la torrese prova a cercare di riaprirla ma di una disattenzione difensiva ne approfitta Di Paolo che colpisce per la seconda volta 3 a 1. E così tenta il tutto per tutto l'allenatore della squadra di casa esce Bratelli dentro Antichi 4-3-3 per la torrese che si espone per il recupero del risultato per il doppio svantaggio. Antichi appena entrato si fa notare due su di lui chiude bene il Giulianova ma passa appena un minuto e così insiste la torrese scontro nei pressi del vertice sinistra dell'area di rigore Santi Rocco va giù per Gazi di Schio l'intervento è da massima punizione il tiro dal dischetto è da dimenticare. Finisce in pratica lì la partita fra Torrese e Giulianova e sarà un arrivederci al 22 maggio?